Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati su Minecraft Bug Abuse per... non ricordo il numero dell'episodio ma dovrebbe essere dodicesimo allora ragazzoli oggi andiamo a vedere un altro bug interessante che appunto utilizza i funghi come suo... per il funzionamento è molto particolare, per chi non conoscesse sta serie, perché effettivamente è un po' che non la porto come funziona? mondo in Minecraft 1.12, utilizziamo tutti i tipi di bug, di sdoppiamento e roba varia infatti questa è la casa che abbiamo costruito cioè ci sono tipo... non lo so quanti beacon sono ma veramente veramente tanti e quindi ragazzuoli ecco è una serie incentrata sui bug facciamo bug, cazzeggiamo, facciamo roba figa e questo è quanto infatti come potete vedere ho anche tipo 43 gap che... ma ok si, right, chi ce le ha 43 gap ora io uccido un po' di scheletri perché non è male il fatto che mi diano le ossa dato che ce ne serviranno parecchie andiamo a mettere a posto alcune cose che abbiamo fatto lì c'è un coso di fare... vabbè 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 non guardate il capello ecco questi ci servono, questi li possiamo allevare anche questo lo voglio, il buon meal e poi mi serve l'ultima cosa a mettere via questi diamanti ok, andiamo a prenderci magari qualche blocco da construction ci prendiamo anche un po' di terra e andiamo effettivamente a vedere come rompere il portale del nede del land, scusate utilizzando i fungozzoli la prima cosa da fare intanto è levare sta cosa perché ci dà fastidio e dobbiamo necessariamente levare la lava ok, a questo punto io direi di far scendere dobbiamo scendere un po', è necessariamente dobbiamo scendere, è parecchio, di questi quanti sono uno, due, tre ah, di un blocco in verità, neanche tanto perché al quarto blocco ci dobbiamo mettere una cosa quindi qui ci metteremo uno, due, tre, quattro no, vabbè, ok e dobbiamo semplicemente scavare tutto questo strato qua ok raga, che cosa facciamo? chiudiamo la lava ok, all right dobbiamo togliere questi ho scavato anche sta parte sperando che non vada ad influire se influisce so cazzi perché dobbiamo scavare ancora di più io provo a far crescere il fungo che ovviamente non cresce manco per il kaiser ergo devo scavare magari un altro po' perché gli può dare fastidio e quindi farò un ennesimo scavo da sta parte vabbè, ci mettiamo poco ok, test 2, va a forza facciamo crescere il fungo che non cresce non crescerà mai neanche il fungo cresce effettivamente è giusto il posizionamento eh sì, il posizionamento è pure giusto ma non cresce ergo c'è qualche cosina che non va ma per far crescere un fungo quanto ci dobbiamo allargare? di tre di tre qui c'è là c'è là tre figa c'è là tre vogliamo fare un altro ma il che mi sembra abbastanza surreale il fatto che con tre non riesca a nascere però comunque magari perché dovrebbe crescere lo stesso però non lo so io non ce l'ho bene in mente la dinamica dei funghi quindi effettivamente tentiamo di riuscire a fare tutto ok ragazzuoli dobbiamo puntare sulla sorte dammi un libro del cazzo dammi un diamante eccolo qua lifecrafting ce l'ho perché dobbiamo fare una roba eh bene sì ragazzuoli è arrivato il momento mica per niente perché se no non ci fu ok right perfetto the first one è andato a questo punto direi di poter tranquillamente creare una stanza in per l'enchant per l'enchant vedete la possiamo fare a queste parti la zona enchant cioè è che figa stiamo facendo stiamo pettinando le vamo ok questa la leviamo leviamo anche questo e leviamo anche questa parte qua tac 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 l'enchanting table la mettiamo in mezzo a questo punto ci servono tante ma tantissime librerie perché dobbiamo enchantare mi serve sapete che mi serve volete davvero sapere che cosa che incantazione mi serve mi serve salt touch salt touch per il semplice fatto che se no io non posso andare a prendere quello che voglio ovvero dove stanno le perché non mi fai vedere le librerie tutti mi servono tac perfetto quante librerie riesco a fare non so quante mi serviranno ne facciamo un po' 13 per il momento e vediamo se bastano ne dobbiamo fare altre tipo eh due ma io ne faccio tre per completezza perché se no non mi faccio uno non due tre anche quattro via via crea pillavarizia ok poi ci facciamo mica per niente però dato che posso farvi no e allora son tonto effettivamente lo so così mi servono un paio di stick ma giusto un altro picconcino per star tranquilli che se il primo non c'è al silta forse il secondo c'è e poi tanto c'ho 33 livelli più di questo non posso fare dovrei andare a massacrare qualche mob e non è che proprio proprio una cosa una passeggiatina dovrebbe essere mettiamo questo qua questo qua e questo qua ce l'abbiamo ok unbreaking i lapislazzuli fortuna in questa serie nulla è un problema ce l'avevamo non li ho moltiplicati però comunque ce li avevamo ce li avevamo eccoci qua tac tac vai vai yes yes come on yes ah beh fanculo incanto anche a questo punto incanto la spada no ma già che ci so perché dice looting e sharpness nel senso yes yes come on ho il pad andiamo a cercare il puzzle comunque penso sia la prima volta che mi dice culo con un enchante grande porta fortuna sta serie allora qui ho messo i biomi che sono estremamente piccoli quindi troveremo sicuramente il puzzle da qui a breve speriamo di sia molto breve perché alla fine è un biomo abbastanza raro però ho messo vedete la dimensione biomi al minimo anche per facilitare la serie deve essere una serie così ma per divertimento questa non è che è una serie chissà che è una serie a kaiser e che però comunque è figa secondo me perché faccio una roba figa però non so se lo riusciremo a trovare a breve ok penso che la prima tappa obbligata sia questa necessariamente mi serve sto cazzo di vetro allora ragazzoli l'ho trovato ma c'è un piccolo problema che mi sono abbastanza perso comunque puzzle c'è vai trunk siamo tutti felici e contenti ne prendiamo giusto sei vabbè prendiamo qualcuno di più per carità giusto per essere proprio tranquilli e simpatici ma non è che ci serve chissà cosa cioè una volta che ce l'abbiamo uno lo possiamo moltiplicare quanto ci pare a questo punto prima che faccio la notte devo tornare a casa non penso di essere molto lontano comunque perché non è che mi sia allontanato chissà di quanto non ho camminato così tanto quindi ci dovremmo essere 24 vanno più che bene ci vediamo a casa come un genio sono morto però vabbè tranquilli non è che non ho perso nulla ho buttato un po' di roba nella lava come al solito perché avere un inceneritore ho scoperto che fa effettivamente molto comodo ti suoti l'inventario quando non hai un effettivo sistema di smistamento notevole nel magazzino perché diventa veramente problematico ok ragazzoli vediamo se a sto punto ci darà ragione pozzol cazzo di coso right vai cresci crei non cresce un cazzo perché non cresce troppa luce secondo me troppa luce dentro la stanza questo caldo no ma non sto scherzando secondo me c'è veramente tanta luce quindi potrei provare a rendere il tutto un po' più buio coprendo il portale dell'end è perché è quello che dà fastidio raga guardate cioè nel senso la luce viene da lì quindi se io lo dovessi coprire for example facessi una cosa del genere tipo così da sotto e da sopra secondo voi riesco a coprire la luce cioè ma vi rendete conto che cazzo mi tocca fare che poi questo non funzionerà mai adesso perché col cazzo che si crea vede il fungo cioè è troppo piccolo sto posto per creare il fungo oh ma eppure è facile far sto bug 1.12 e non funziona ok signori la cosa sta diventando abbastanza ridicola sì 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 lo fa porca troia ci sono riuscito vent'anni ho sbagliato le misure non ci no l'ho fatto è andato wow 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 sì 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 ce l'abbiamo fatta siamo i campioni del mondo raga mi spiace non l'ho filmato ma vi giuro è stato incredibile ci ha provato tipo ha detto vabbè vaffanculo no grande sì sono felicissimo ci sono riusciti allora ho bisogno a scavare parecchio di là perché lui ha bisogno di tanto spazio una volta che gli ha dato tanto spazio lui ti si crea e ma tipo vi si crea dopo pochissimo io ho scavato un botto e lo porca miseria grande grande gezzonale che figata mi piace tantissimo ok sono felice in culo sono una persona veramente più felice del mondo ok ragazzuoli allora è passato un sacco di tempo all'ultima clip infatti se notate ho anche un abbigliamento diverso ho scavato ho scavato ho scavato parecchio ho scavato e adesso andiamo a massacrare il regno che ha spawnato perché voglio riprovarlo sto ovviamente a sto punto ci devo riprovare assolutamente un'altra volta a fare questo sto bug mi serve però ve lo faccio vedere in video almeno no perché se no scusate che senso ha mi sono detto a sto punto lo rifacciamo lo rifacciamo tanto effettivamente è fighissimo ho imparato come si fa è facile ho scavato uno due tre e quattro piazzate un blocco di puzzle questo lo levate levate tutto a questo punto dobbiamo andare a rompere questo nella speranza che ci droppi un fungo eccolo qua ce l'ha droppato il fungo mettete il fungo ora non vi resta nient'altro che mettere bombie alla ruota e aspettare che questo si generi tac si è generato e guardate un po' che cosa è successo ha rotto il portale del land tac tac e ok right capite conto è figo cioè è una figata non potete dire nulla riuscite a rompere il portailand con i funghi con i blocchi di con i funghi giganti esatto quindi create praticamente due funghi giganti che vanno a coprire questa roba qua e secondo me è particolare strano poi questo lo potete contornare a sto punto come volete invece di utilizzare il metodo del lander egg che effettivamente è un metodo molto lungo perché bisogna fare una roba lunghissima con i funghi riuscite a romperlo instant basta scavare soltanto un po' qua ma poi è anche figo secondo me allargarlo perché comunque puoi farci una stanza di tutto rispetto cioè secondo me qui viene una stanza figa se lo allarghiamo ancora infatti sto coso lo voglio penso allargare ancora rompere anche questo a sto punto lo rompiamo tutto lo contorno io di come mi pare e faccio una roba figa tutto qua comunque ragazzoli penso che per questo video possa tranquillamente essere tutto vi ringrazio tantissimo per la visione e lasciare mi piace se vi è piaciuto iscrivervi al canale se non avete fatto di condividere il video su facebook e farmi piacere le persone mi raccomando passate in tutti a un prossimo video ciao a tutti ragazzi